Il metodo Milan approda nei campi di calcio di Policoro grazie alla scuola calcio del Real Metapontino, da quest'anno affiliata al Milan Academy. Una formazione continua integrata a quella che i tecnici del Milan Academy forniscono puntualmente allo staff tecnico del Real Metapontino. Ai nostri microfoni Giacinto Vetere del Real e il tecnico del Milan Academy Danilo Tedoldi spiegano gli obiettivi e le finalità della formazione integrata con metodo Milan. Una scuola calcio che in questi due anni è cresciuta tanto nei numeri, ma che con l'impegno del presidente Pasquale Casalnuovo ha avuto una grossa spinta sulla formazione, soprattutto per il fatto che da quest'anno, perché in questo 2018 siamo affiliati Milan e quindi è un grande passo in avanti per quanto riguarda la formazione di noi e dello staff, ma soprattutto che ricade sui ragazzi che fanno parte di questa scuola calcio. L'affilazione funziona in un'organizzazione che deve portare avanti un metodo che è del Milan, una società riconosciuta in tutto il mondo a livello internazionale e che vede come fondamento il metodo integrato, quindi una formazione a 360 gradi che non è solo quella dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche quella dell'allievo sulla personalità, sui varie osservazioni del ragazzo dal campo e fuori dal campo. La formazione sul campo che ci concede il Milan Academy è mensile, cioè mensilmente scende questo nostro collaboratore, formatore, che ci segue un po' sul nostro metodo che quotidianamente mettiamo noi in campo e in più ci dà dei suggerimenti importanti per questa formazione che è alla base di un metodo che deve essere condiviso da tutti e che con orgoglio possiamo dire che il nostro presidente ha cercato e fortemente voluto. Io vengo qui una volta ogni due mesi, arrivando dalla Puglia perché abbiamo altre quattro scuole calcio in Puglia e una qui in Basilicata a Metta Pontino che è il primo anno nostra scuola calcio. Sì, prettamente il nostro progetto nasce dalla formazione degli istruttori e poi a seguire naturalmente il lavoro sul campo, di quello che è il nostro metodo integrato, quindi come costruire un allenamento e come poi andare a lavorare su tutte le fasce del settore giovanile. Crescere i giocatori è natura di tutte le società professionistiche e non a caso da quest'anno come valore aggiunto il Milan ha trovato uno scouting per ogni regione, cosa che fino all'anno scorso non c'era, quindi siamo coperti in tutta Italia e quindi siamo alla ricerca di nuovi talenti in tutta Italia, in ogni regione senza lasciare perdere nessuna. Il metodo integrato vuol dire che comunque al centro del progetto c'è il bambino e tutte le figure adulte che ruotano intorno atte alla crescita del bambino, non solo come calciatore ma come uomo, che è l'unica cosa di cui siamo certi che diventerà giocatore, glielo auguro a tutti, non lo so. Quindi in questo metodo integrato ci sono tutte le figure anche per quanto riguarda l'aspetto psicologico, psicopedagogico, coordinativo motorio, cognitivo, noi puntiamo tantissimo sull'aspetto cognitivo, quindi far ragionare tantissimo i ragazzini durante il seduto e allenamento, avvicinarsi sempre di più a quelle che sono le situazioni di gara che si troveranno ad affrontare e sociale e relazionale che comunque ha già un nesso con l'aspetto cognitivo. Questa è un po' la base della struttura del nostro allenamento.